Uomini e donne, Soleil sorge, amore a rischio con Luca Onestini Uomini e donne, Soleil sorge, amore a rischio con Luca Onestini Rivale di Luca Onestini Si sono conosciuti e innamorati a uomini e donne, e da poco hanno festeggiato i quattro mesi di relazione. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, Soleil sorge è stata avvistata insieme al rivale di Luca Onestini. Motivo per cui molti fan della coppia hanno pensato che la bella giovane potrebbe aver dimenticato il suo fidanzato. Ma come sono andate realmente le cose? Come riportato dal blog Anticipazioni.tv, Soleil ha caricato nelle ultime ore un video su Instagram, dove è impegnata ad ascoltare una canzone dalla radio di una macchina. A quel punto molti fan, grazie a qualche dettaglio, hanno notato che l'auto in questione è quella di Marco Cartasegni. Ovviamente, nemmeno a dirlo, si è scatenata immediatamente una furiosa polemica sui social, in quanto hanno accusato la bella ex corteggiatrice del popolare dating show di Canale 5 di aver mancato di rispetto al fidanzato, impegnata attualmente al grande fratello Vip. Tuttavia ci ha pensato la stessa ragazza a buttare immediatamente acqua sul fuoco. Uomini e donne, Soleil sorge dimentica Luca Onestini? Soleil sorge, dopo essere stata subissata di critiche sui social in queste ultime ora per essere stata sorpresa insieme al rivale di Luca Onestini, è sbottata. E rispondendo a una fan su Instagram, ha fugato qualsiasi dubbio, asserendo senza tanti mezzi termini. Non circola alcuna voce. Certo che ho incontrato Marco e non c'è assolutamente nessun flirt. Abbiamo amici in comune, è normale vedersi essendo anche nella stessa città e è semplicemente un amico e... Sarà davvero così? Oppure l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe avere serie motivazioni per dubitare della sua fidanzata? Queste e tante altre le domande che molti supporter dei due fidanzatini si stanno ponendo in queste ore su social. Intanto, Soleil non ha fatto molto parlare solo per questa intricata faccenda di gossip. Infatti, la giovane, proprio nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, ha lasciato tutti di stucco perché ha attaccato Giulia De Lellis per via delle sue ultime uscite omofobe al grande fratello Vip, scatenando una furiosa polemica su social. Insomma, non c'è davvero un solo giorno in cui Soleil non faccia discutere in rete. E chissà se gli autori del reality show condotto da Hilary Blasi riveleranno a Luca questa amicizia venutasi a creare nelle ultime settimane tra Soleil e Marco Cartasegna. Per scoprirlo non resta che seguire la quarta puntata lunedì prossimo. Ciao!